Benvenuti nel mondo degli orologi Eterna. Eterna è un marchio svizzero di orologi di lusso che ha una lunga e prestigiosa storia alle spalle. Fondato nel 1856 a Grenken, in Svizzera, l'azienda si è guadagnata una reputazione per la sua produzione di orologi di alta qualità, con una particolare attenzione alla precisione, all'innovazione e al design. Grazie alla sua grande esperienza nel settore, Eterna è stata in grado di creare degli orologi unici e dal design raffinato, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Tra i suoi prodotti più notivi sono gli orologi Eterna Contiki, famosi per la loro resistenza all'acqua e per la loro capacità di resistere alle pressioni estreme del mare. Eterna è stata una delle prime aziende a produrre un movimento automatico al quarzo, chiamato Eterna Sfero Drive, che ha rivoluzionato l'industria degli orologi. Grazie a questa innovazione, Eterna ha potuto offrire ai propri clienti degli orologi di alta qualità, precisi e affidabili, in grado di durare nel tempo. Oggi, Eterna continua a produrre orologi di alta qualità, con una particolare attenzione alla precisione, all'innovazione e al design. Gli orologi Eterna sono realizzati per garantire la sostenibilità ambientale e il rispetto delle norme ambientali e sociali. Inoltre, gli orologi Eterna sono resistenti all'acqua e dispongono di funzionalità come il cronografo e il calendario, che li rendono degli accessori di stile perfetti per qualsiasi occasione. L'eleganza e il design minimalista degli orologi Eterna li rendono degli accessori di stile perfetti per chi cerca un orologio di lusso dallo stile discreto. Gli orologi Eterna sono disponibili in diverse varianti, con cinturini intercambiabili e in diversi colori, per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. In sintesi, Eterna è un marchio svizzero di orologi di lusso con una lunga storia di produzione di orologi di alta qualità, innovativi e dal design unico.